ciao 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 a tutti Siamo qui dal divano di Giannitalia a Colonia mentre Pocotto sta cercando di fare delle brutte cose al microfono noi siamo rimasti qua in studio a guardare la conferenza Sony in streaming mentre gli altri ragazzi andavano sul posto quelli che hanno seguito le tre conferenze in loco durante la giornata e che adesso si stanno spogliando per arrivare in diretta nudi e parlare si stanno riprendendo dalle forti emozioni della giornata e presto interverranno per dire alla loro ho saputo di un ualone depresso Ualone Emo dice MDK pure lui comunque non mi sembrava particolarmente esaltato però dai c'è Pocotto dici come ti ha impressionato questa conferenza Sony l'unica che hai vista l'abbiamo vista da casa perché noi facciamo il nostro dovere sempre siamo sempre con voi, solo con voi e cosa possiamo dire? è una conferenza con alti e bassi diciamo che l'elemento principale che finalmente è stata definita la data d'uscita della console questo 29 novembre è stato secondo me molto interessante tutto quanto l'ambito riguardante gli indie nel quale hanno spinto su progetti che fondamentalmente erano quasi imprevisti diciamo che secondo me il punto più basso è vedere come nonostante cerchino di dire il contrario la situazione su PS Vita sia piuttosto ormai compromessa e ho da titolo personale più di una perplessità che semplicemente abbassando il prezzo e proponendo dei bundle con dieci giochi si possa riuscire a risollevare la situazione di una console che fatica per la mancanza di titoli esclusivi di un certo peso no, in generale no obiezione tranne che per una versione portatile di Gran Turismo che effettivamente manca e forse anche God of War dicevamo che magari sì effettivamente sì ok ha un po' ragione Pocoto nel senso che se tirassero fuori quei due o tre giochi grossi si risollerebbe ma secondo me è una console bellissima, ottima e magari non gode di questa bellissima salute ma nemmeno Zave è bellissima a vedersi eppure apparentemente sta bene ma comunque l'apparenza inganna l'apparenza di PS Vita è bella e allora di che stiamo parlando? comprendimi ma vabbè ma le vendite io l'ho comprata tu ne hai due ma addirittura sì ma tu difendi non ne ho comprata nulla ma più che altro Pocoto hai una PS Vita no e sei tu che affossi ma non butto 250 euro in una cloaca costa 199 sia in Europa che in America hai ragione non costa più 250 euro se mi vendessi i Pikmin diminuiresti il budget necessario per acquistare PS Vita vabbè ma parliamo di altro possiamo parlare di Drive Club e cambiamo argomento sì possiamo parlare di Gran Turismo 6 e cambiamo argomento come? non ti è piaciuto quel trailer? ma non era un trailer che mostrava chissà cosa a parte Michael Jordan sì le scappe di Jordan è il marchio della Nike è perché ci sale il volante Nike ma tra l'altro mi ha appena proprio mi ha appena colpito una cosa quando hanno avuto il momento ah questi sono i giochi che avevamo già annunciato ve li facciamo vedere brevemente no però i giochi i giochi first party l'esclusiva l'abbiamo già annunciato un trenerino di uno titoli di altri due un trenerino di un altro e Knack? Knack se n'è andato e non torna più no tornerà attenzione è un run in un trenerino della regia Knack c'è stato un filmato di gameplay prima che cominciasse la conferenza insieme ad altri giochi indie e altre robe ah ho capito c'è stato un sacco di cioè no vabbè però roba che si vedrà domani no è chiaro altri giochi indie oltre a quelli mostrati è come quando ci sono gli incontri di UFC o di pugilato e ci sono quelli un po' sfigati prima che inizi la trasmissione in tv esatto sono quelli che un giorno sperano di salire sul grande palco magari Knack 3 salirà sul grande palco intanto a luci spenta ma magari si risolleverà tutto è possibile allora io più che altro cioè dopo un mese di annunceremo esclusive a Gamescom cioè vabbè sì belle eh le esclusiventi però mi aspettavo almeno una cosa grossa cosa? di conoscere di conoscere di conoscere di conoscere di conoscere vabbè si vede che tu sei nel tazzo ti sembra un esclusiva ma scusa ma vieni qua se vuoi dire se vuoi dire corbelleria mi aspettavo un'esclusiva grossa il remake di un gioco per amiga 12 strati per l'asse e tra l'altro era pure brutto c'era anche il remake di Pong abbiamo visto c'era Pong per Playroom Playroom in tutte per installato quello di Ovo Sonico sembrava carino cioè c'è della roba interessante però insomma anche il gioco di The Chinese Room gli autori di The Rester era molto interessante ma sì però non si è capito una mazza di cosa c'era no ha giocato a The Rester è morto il team va a prendere il basilico se preferisci continua a chiamarti Berusky si va a farlo risorgere di muovere l'orologio è automatico ma voglio dire cercando un attimo di serietà tornando fuori dal faceto guarda se ci chiedono cose volevo dire visto che comunque loro potranno parlare di Sony in maniera molto più esastiva di noi visto che erano presenti anche di Microsoft anche di Electronic Arts avete visto una conferenza di S no d'accordo però però aspetta voi vedevate l'Italia avete visto anche una cosa prima avete visto una cosa prima e poi comunque eravate lì e avete tastato il polso al pubblico potete avere un minimo di informazioni in più parliamo 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 di cosa abbiamo visto noi oggi alla seconda giornata della GDC velocemente casomale l'unica è che tutti schivano e tutti schifano ma noi no secondo me è in questo momento l'argomento di questa conferenza ma certamente lasciamo subito lo spazio dell'ora e poi torniamo in seconda sede era soltanto impressioni di settembre vabbè e questo è il bello della diretta amici di IGN attenzione una persona non sapere di cosa parlare dove la ma che succede? nel frattempo è arrivato che è il bello walone ma la verve caraibi sono depresso walone una domanda una domanda dai lettori da Donatella Rettore sì su Drive Club splendido ma adesso Drive Club sarà il gioco che nell'edizione PlayStation Plus sarà gratuito su PlayStation Plus insieme a esattamente che si chiama qualcosa comunque quello di il seguito ideale di Superstar Dust HD esatto cioè Superstar Dust Defender Choplifter esattamente i microfoni Super Defender Choplifter HD Plus rassegna si chiama rassegna 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 sì una domanda fondamentale a questo punto è meglio Xbox One o o comunque Microsoft ha recuperato terreno nel tuo cuore non posso spiegare la mia depressione ovviamente virgolettata di oggi l'intera conferenza di Xbox One è stata trattata come NAC non l'hanno fatta vedere esattamente esattamente allora oggi io mi aspettavo le date d'uscita delle console ne abbiamo parlato così una non c'è stata Xbox One non hanno detto quando uscirà l'altra purtroppo c'è stata è il 29 novembre insomma dopo che si vociferava di un 21 ottobre addirittura in questi giorni per PlayStation 4 per la generazione attuale eh lo so lo so però insomma ci sono rimasto male adesso voglio che questa diretta di IGN Italia mi consoli in qualche modo solo per l'orario del vero devo raccontare proprio la tv verità che piace tanto a me a fotone che wow era tutto contento esaltatissimo prima della cosa ma contento veramente ragazzi era genuinamente era la foto con Yamaguchi era contentissimo sì sì certo poi non so perché siamo usciti dalla conferenza mi sei entristito la next gen non mi piace più non voglio più le console cioè non lo so esatto non lo so voglio diventare un retro gamer voglio voglio passare da appassionato di next gen no ma no ma non è vero non è vero ancora la mia conferenza Sony è iniziata e finita prima dell'inizio della conferenza quando c'è stato il momento in cui è stata mostrata l'interfaccia vera e proprio tra l'altro in una situazione abbastanza live realistica se fatta apposta comunque molto realistica perché i tempi di caricamento ci potevano stare così anche proprio il modo in cui ci si muoveva nell'interfaccia quello è stato molto bello avrei voluto a quel punto è stato un prologo di un qualcosa che poi non c'è stato più sarebbe stato molto interessante vedere un'ora e mezza di interfaccia ma per me anche 12 giorni di fila tanto da qui al 29 novembre la voglia di vedere l'interfaccia ma scusami quel che hai visto all'inizio quel prologo non ti è sembrato Xbox Live Blu mi è sembrato il vecchio Playstation Store con però delle possibilità di fare effettivamente delle cose è la retromarcia di Sony è la retromarcia al vecchio Playstation Store esteticamente sì anche quello avrei voluto ragionarci di più sull'estetica perché mi pare di capire fotone che non ti sia piaciuta l'estetica dell'interfaccia del nuovo Playstation Network per PS4 esteticamente è anche bello ma io mi ci perdo ero abituato a quella roba lì la volevo un po' più bella un po' più meglio ma tu devi solo far partire i giochi c'è anche un secondo me un piccolo revival della cross media bar quando a un certo punto si abbassa l'interfaccia principale fatta a quadratoni dei vari oggetti e sopra c'è quella linea orizzontale con le icone proprio tipo XMB a cui siamo abituati con Playstation 3 e PSP tra l'altro no volevo solo dire una cosa di fare magari un visto che abbiamo abbiamo iniziato subito al volo c'è magari qualcuno che non ha ancora visto la conferenza e al di là come dire delle battute delle cose se possiamo fare anche magari un riassunto esatto di quello che comunque hanno mostrato sono partiti come diceva Walone con una dimostrazione secondo me comunque anche originale a livello proprio di presentazione nel mostrare appunto c'era Yoshida giusto di spalle che giocava praticamente ha avviato la console si è messo a utilizzare l'interfaccia mostrandola direttamente dal vivo senza presentazione senza nulla sono spenti le luci esatto molto lasciamo parlare la console poi lui si è girato è andato avanti così per un paio di minuti si è girato ed è iniziato non abbia parlato è una risposta a Microsoft con Microsoft parli alla console con Sony ti parla la console tra l'altro e poi in realtà hanno iniziato a mostrare vabbè oltre ai soliti discorsi come dire da aziendalisti che comunque ci stanno hanno mostrato le uscite di Playstation 3 che comunque dopo 8 anni è tutto fuorché una console morta non hanno neanche fatto vedere tutto esatto avrebbero potuto rain non c'era comunque hanno enfatizzato in maniera corretta il fatto che abbiano ancora tanto da dire per la console che è nelle case di milioni di persone poi sono passati a parlare di Playstation Vita in una maniera che personalmente continuo a non convincermi per nulla nel senso che hanno mostrato dei titoli anche nuovi legando il discorso molto Playstation Vita con l'enfasi io adoro le cose sperimentali mi piacciono i titoli indie mi piacciono impazzisco per Hotline Miami per We Love Katamari queste cose qua però secondo me Sony in particolare in questa conferenza l'impressione che ho avuto io dalla sala e un po' anche secondo me nella sala poi anche Ualo e Mattia sicuramente anche il team diranno qualcosa hanno secondo me un po' calcato un po' la mano e sembrava che come dire ok è figo questa cosa degli indie è bello però forse la gente l'hai detto anche prima tu si aspettava magari un altro tipo di cosa è bella l'enfasi su concetti nuovi su giochi nuovi tra l'altro giochi che per la maggior parte dei casi sono anche su piattaforma playstation non sono quasi mai esclusiva dicevano continuamente il debutto sarà in esclusiva su console debutto console eccetera quindi come dire cose non solo loro e io personalmente ho trovato molto limitante come dicevo l'utilizzo della presentazione che hanno fatto riguardo al futuro di playstation vita due esclusive di fatto una quella italiana di Guarini che è un titolo molto interessante a livello diciamo estetico anche se nel gameplay mi sembrava un po' limitato mi ha ricordato escape plan e non è una cosa esattamente spero funzioni meglio ecco l'altro sulle sui i festival musicali io più che altro mi chiedo hanno fatto mezz'ora fra quello e poi anche la parte ps4 dedicata ai titoli indie barra le produzioni artistico particolari che si sa piacciono a sony mi chiedo se sia una roba dovuta al fatto che sanno perché non lo so io i numeri di playstation editor magari sanno che sono cose che in europa vanno molto forte e quindi comunque di base è una roba a cui sony dà importanza alla gamescon gli dà ancora più importanza perché sembrava la conferenza stampa di un publisher di giochi indie che abbiamo anche della roba grossa ma l'abbiamo già fatta chi se ne frega no ma tra l'altro in sala sono partiti quando mi ricordo proprio la schermata di playstation loves indie con il cuore in beat ma figo la gente lì era comunque gasata era la metà dello show e c'era interesse quando hanno iniziato a dire e c'è questo e c'è questo la lista con il trailer con la cosa c'era proprio una percezione di stanca e di sì ma ok e quando poi sono arrivati a mostrare la cosa come dire a dare più spazio è stata la dimostrazione di assassin's creed tra l'altro per esempio ne parlavo con mattia poco fa mi aspettavo di vedere magari un trailer non definitivo magari con un pochino di gameplay una presentazione un po' più approfondita di the order ad esempio che certo non è un gioco che arriverà subito però magari farlo vedere un pochino di più magari non lo vogliono perché comunque c'è l'appuntamento alla Gamescom nei prossimi giorni e magari è una roba che ancora vogliono far vedere solo alla stampa sicuramente hanno mostrato tante cose e poi una cosa che ci tenevo a dire di PlayStation Vita da utente PlayStation Vita e come diceva Fottone da persona che apprezza quella che è la console che è una figata ma non apprezza l'attitudine con cui Sony la sta gestendo cioè anche lanciare tutti questi giochi PlayStation 4 e PlayStation Vita attenzione facendo la manovra già di escludere PlayStation 3 quindi tagliare fuori una certa fetta di mercato tra l'altro quella che è attualmente la più abbondante se già mi stai facendo una scelta del genere io dico non so Binding of Isaac scegli ne uno scegli ne due e fallo uscire solo su PlayStation Vita cioè dai una parvenza di esclusività alla console a dire ok questo gioco qua è particolare giocalo solo lì invece il relegarla a una cosa che ti permette di giocare a prodotti che trovi anche altrove e tra l'altro al secondo schermo c'è la feature del remote play ma per chi è che è interessante cioè ne hanno vendute poche di PlayStation Vita e non la vendi neanche se le abbassi il pezzo di 50 euro per sfruttarla con un secondo schermo sembra che abbiano proprio rinunciato a fare quello che dici tu è una roba che ti può interessare avere se hai PlayStation 4 o PlayStation 3 in questo momento perché ci puoi fare queste cose qua perché poi se compri il gioco indice l'hai su entrambe le console quindi puoi giocarlo a casa e fuori col cross play perché puoi fare il remote play cioè sembra poi magari adesso fra due mesi annunciano God of War Gran Turismo e che ne so un altro Kills però sembra che l'abbiano ormai è diventato lo smart glass è vero bravo un incrocio tra il Wii U e il smart glass è uno smart glass che puoi portarti anche in treno sì sì però personalmente questo è stata una cosa così e poi ribadisco in sala si è partiti secondo me con tanto entusiasmo la durata il ritmo che comunque secondo me è sempre uno dei grossi problemi di Sony poi ne facciamo parlare anche in volone in generale si è partiti molto carichi e si è finiti un po' un po' stanchi c'è stato il momento M. Night Shyamalan con i colpi di scena i twist sono partiti allora ci sono questi giochi che erano Call of Duty Assassin's Creed se li comprate aggiungevano un dettaglio alla volta se li comprate su PS3 no attenzione sta per dire che poi ce li hai su PS4 poi su PS4 li paghi la metà per un periodo di tempo no anzi no li paghi un po' di meno per un periodo di tempo ci può anche ma io dico vabbè Call of Duty lo posso anche capire perché uno lo vuole continuare a giocare in multiplayer se hai comprato la PS4 se sei molto appassionato che vuoi andare avanti secondo me alla fine li spendi ma tipo Arkham Origins se te lo sei già giocato su PS3 ma perché dovresti spendere dei soldi per averlo anche su PS4 più che altro c'è anche l'altra considerazione da fare che comunque la console esce il 29 novembre che per me è tardi ed è il motivo della mia depressione di stasera ma in realtà esce il 29 novembre questi giochi escono tra ottobre e novembre uno che vuole che sa che deve comprare PS4 il 29 novembre Call of Duty Assassin's Creed 4 FIFA eccetera non li compra Battlefield non li compra tanto lungo non può essere perché sennò non ha senso per Call of Duty e FIFA escono quelli dopo esattamente quindi appunto cioè un po' vabbè è una cosa se uno ci tiene allora volevo precisare per gli amici di casa sul fatto che magari qualcuno cioè sul fatto che io sono depresso sono depresso per il ritardo cioè perché volevo una data d'uscita anticipata e non è che no perché mi presenti bimbi minchia la voleva domani siccome non è così si è offesa e per ribica non la voglio più voleva quel colpo tipo PlayStation 4 costa sì domani nei negozi esatto o comunque il 21 ottobre era più bello del 29 novembre esatto è sotto la vostra sedia però dovete pagarla non dico cosa succedeva se avessero cosa aveva promesso Wallone se avessero annunciato che era venito subito che la davano ai presenti in sala non lo dico no perché poi qualcuno magari dice no criticate sempre Sony se è per questo motivo no cioè critichiamo critichiamo il ritmo della conferenza di stasera magari i contenuti come sono stati gestiti non è che critichiamo Sony in generale se aspettano critichiamo anche mai questo sì sì poi adesso critichiamo c'è anche a dire una cosa è comunque una conferenza games la games come è poco dopo le tre esattamente ci sta che non hai nulla di clamoroso nuovo da presentare è che magari dopo che avevano detto abbiamo le scuse ribadisco secondo me il problema è di messaggi incredibilmente Sony forse non dico sbagliato ma qualcosina che poteva fare diversamente a livello di comunicazione perché secondo me se tu l'anno in cui arriva PlayStation 4 dici per due mesi abbiamo le esclusive alla games comunque uno si aspetta ce l'hanno sì però ripeto uno si aspetta qualcosa di veramente potente non giochi che comunque sono ridotti poi detto questo a me che la conferenza stampa di Sony sia mezz'ora di roba indie piace da matti però cioè bisogna secondo me anche ragionare un attimo con l'ottica di pensare al di là magari del proprio gusto voglio dire io tutta la vita preferisco ripeto giocare Outline Miami 2 che a FIFA 14 è un parere mio è un gusto mio che sicuramente non ha riscontro poi a livello di mercato però tra appunto una copia di FIFA 14 in omaggio con ogni Xbox One e mezz'ora sugli indie a noi magari fa più piacere ascoltare mezz'ora sugli indie bisogna anche vedere a livello di poi di prospettiva di come accoglie al mercato la cosa fa un rumore diverso tra virgolette bisogna anche riconoscere che comunque loro hanno fatto mezz'ora sugli indie e si vede che è una roba che hanno curato ma anche Microsoft comunque per la prima volta oggi ha martellato un po' sulla questione forse proprio però loro hanno presentato 40.000 giochi cioè c'è un po' quella cosa che Microsoft dice oh anche noi anche noi ma non in Giappone ma lo dicevamo a Wallone oggi c'era il paradosso di Microsoft nel video che hanno fatto vedere con tutti gli sviluppatori che parlavano bene delle nuove politiche eccetera mi ha colpito particolarmente 17-bit quelli di Galaxy che esce in esclusiva per PlayStation 4 che appunto ne parlano talmente bene di Xbox One che fa un gioco esclusivo dall'altra parte Minecraft che è arrivato sotto oh ciao ah è vero Borderlands 2 è giusto va citato perché forse il titolo importante per PlayStation Vita no però non si è visto nulla no ok però dopo che si è spalata a fango su Wii U perché arrivo Arcam Origins un anno dopo insomma comunque Borderlands 2 un anno dopo però sai in versione portatile potrebbe avere senso non è un nuovo Borderlands fatto per PS Vita ma quello è Bioshock è un nuovo Borderlands fatto per PS Vita Bioshock no poi per carità figata Borderlands 2 su PS V io ti dico sono curioso di vederlo per vedere anche perché Borderlands 2 è un gioco che spinge tra virgolette a livello tecnico quindi no no ma anche tecnicamente dico c'è un bel vedere sono curioso di vedere una versione portatile su PlayStation Vita com'è vabbè che poi tra l'altro no niente mi sono dimenticato mi era venuto in mente una cosa ma me la sono dimenticato invece secondo me sì dici 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 Minecraft c'è un po' il sapore della trollata però al momento e poi c'è stato il finale ah comunque al contrario di altri che cambiano idea noi siamo ha avuto anche l'attimo stai ridendo però in sala al contrario di quello che era successo alle tre ti ricordi guardo che c'è la gente in piedi che batteva le mani un po' anche noi stavolta qua come dire è stata ne ha fatte due vicine proprio da Gigione la prima metà sala ha accolto ma in maniera meno fragorosa di quello che si aspettasse quando poi lui ha rimarcato facendo la pausa eccetera lì era come dire sì ma ok va bene però vai avanti cioè nel senso anche un po' di forse ci sta è che Sony comunque si è presentata meglio di Microsoft però forse vai avanti fai vedere fai vedere cose che possono come dire fare la differenza perché la fai tu non perché è il competitor che stecca no vabbè ma poi oltretutto su quegli argomenti su cui Sony aveva ragione di comportarsi in quel modo a Los Angeles adesso cioè Microsoft è tornata indietro ed è scusate parliamo con allora c'è Berusky che si arrabbia se gli dico che N++ è un giochino indie ma non giochino dispregiativo è sempre il discorso di prima il confronto fra le piccole produzioni e i titoloni grossi va bene scusate ricordiamo il nostro pubblico che comunque Timo non si sente non abbiamo i diritti per far vedere Berusky c'è la Mediaset è per questo che le sue parole sono censurate mentre noi parliamo fatemi citare tra le cose indiche quello che mi ha colpito particolarmente mentre un tag din che distrugge un lampadario quello che mi ha colpito particolarmente era quello di Tequila Works che io ho apprezzato già molto con Dead Light però secondo me è quella specie di Ico con la grafica Icolori Icolori e Wind Waker bello il titolo Icolori il fondo era lo stesso di Ico spaventoso quello è quello che mi ha particolarmente stuzzicato e già che vi abbiamo fatto vedere questo a proposito The Last Guardian io continuavo a dirlo continuavo adesso c'è della sgara per ridere non che me lo aspettassi però vabbè dicendo il fatto degli indie quando dicevo è un giochino o roba del genere io lo capisco pure che come percezione potrebbe essere quella lì però il fatto è che il PSN come dicevi prima sta facendo dei numeri incredibili per esempio Retro City Rampage su PS Vita ha venduto di più rispetto alla versione Steam molto difficile per un gioco indie quindi tutto questo focus sì scusa tutto questo focus che sta sugli indipendenti è importante gli indipendenti pronunciato in questo modo è molto bene gli indipendenti verso Sony esatto verso Sony no no è davvero è davvero importante perché tutti quanti i titoli che abbiamo visto nonostante tutto ed è il discorso che facciamo ieri con Nintendo sono dei giochi in esclusiva per console ma comunque escono tutti quanti per Steam cioè non ce n'è uno che non esce per Steam tranne quelli grossi tipo il gioco di The Arrester tipo Rhyme tipo il gioco di Deadlight come si chiama è sempre Rhyme sempre quello di Asma cioè sono giochi che comunque possiamo giocare anche su altre piattaforme non è necessario giocarli su PS4 o su PS Vita quindi prendere tutto questo focus è semplicemente per dire ragazzi voi che avete già acquistato dal PSN guardate che sul nuovo PSN li trovate comunque e ci saranno e ci saranno anche in esclusiva posso dire anche aggiungere un'altra cosa curiosa il fatto che abbiano presentato quella annunciato anzi hanno presentato il fatto che quella demo del controller con gli esserini robotici che ricordano palesemente i Sackboy che tra l'altro avevano in mostra all'E3 cioè hanno detto forse si chiama Playroom cioè Playroom è gratis con PlayStation 4 ma non c'è più la telecamera e quindi come fai cioè o la compri o se no è una cosa gratis che però non tutti possono utilizzare cioè è particolare questa cosa no a me la cosa di Playroom che mi ha fatto piacere è che essendo un'applicazione che ha bisogno della telecamera mi ha fatto capire che la telecamera non serve davvero cioè però per la serie si me lo dai ma non la comprerò mai è quello che dicevo cioè di solito per farti comprare la telecamera te la butto lì che te la vendo assieme al gioco invece stavolta il gioco ce l'hai già compra la telecamera sì è un po' vabbè io direi di cominciare anche a parlare dell'unica conferenza che la gente non ha visto e cioè quella maio è una cosa voglierò qualche domanda lì Little Big Planet Hub cioè praticamente no è stato un bellissimo filmato in CG non si è visto nulla ecco si a occhio direi che diventa la roba servizio gratuito e compri le singole cose che vuoi sembrava diciamo di prima chitto che avessero distrutto Home e messo Suck Boy finalmente purtroppo non l'hanno fatto ci sono ancora i tizi di Home ma io me la immagino come avevano fatto con SingStar che scaricavi gratuitamente l'applicazione e poi ti compravi quello che volevi non no cioè questo è quello che mi immagino io poi che non l'abbiano c'è un bel logo però vuol dire che ci spendi il triplo alla fine c'è un bel logo vabbè c'è anche quella Massive Walline RPG comunque che hanno fatto vedere quello là con le navi ah sì il riassunto di Wargaming.net sì sì tre giochi in uno sì sì diciamo che secondo me il problema della conferenza è stato assolutamente il ritmo erratissimo come al solito lento e poi per il resto le cose da vedere c'erano le esclusive c'erano la conferenza è andata abbiamo le informazioni che ci ha lasciato la conferenza abbiamo anche quelle di Microsoft secondo me è il primo momento il primo la nuova pietra miliare dello scontro tra le due console di prossima generazione che stanno per arrivare e quindi secondo me possiamo cominciare a fare un po' un sondaggio tra di noi analizzare i punti di forza e di debolezza di ciascuna delle due offerte e quindi e quindi introduciamo Mattia Zeivra Vanelli per questo confronto ecco qua ciao Mattia come stai? ciao a tutti molto bene dicevo è il momento secondo me per rifare un po' lo scontro tra Xbox One e PS4 facciamo scusate facciamo un riassuntino velocissimo se qualcuno non l'ha vista perché non l'hanno vista della non conferenza Microsoft cioè dell'evento Microsoft bravo una precisazione che secondo me è già giusto fare Sony aveva una conferenza Microsoft aveva più come dici un evento un evento in cui c'erano soprattutto giochi da provare più che si dicevano cose hanno anche detto cose ma il fatto che non fosse streaming già è piuttosto indicativo cosa succede? ah io vado avanti no dicevo che quindi Microsoft non si è posta come una vera e propria conferenza era più uno showcase non sono comunque mancate le novità abbiamo detto la risposta tra virgolette all'attenzione di Sony per gli indie anche da parte di Microsoft la bomba che abbiamo discusso prima legata a Electronic Arts e al fatto che con ogni copia con ogni unità di Xbox One preordinata fino al lancio e forse anche qualcosina dopo sarà inclusa una copia digitale di FIFA 14 che è una roba che sposta gli equilibri magari in Europa che altre cose ha annunciato Fable Legends che è un titolo non è vero un titolo completamente nuovo non si era mai visto con un'attenzione diciamo all'online al multiplayer ne parliamo poi e poi c'era un'altra roba che avevano annunciato che però non mi ricordo più vabbè comunque no allora sì vabbè no a parte i giochi Zota i Cunzi avevano sì poi c'è un po' anche una lotta tra contenuti esclusivi di giochi di molti piattaformi per esempio su Xbox One avrà dei contenuti esclusivi il bundle con Call of Duty il bundle con Call of Duty mentre su PS4 Assassin's Creed 4 ha un'ora in più anche Watch Dogs ha dei contenuti esclusivi quindi una cosa che abbiamo dimenticato una cosa che abbiamo dimenticato è che penso piace molto al pubblico italiano su PlayStation Vita esce Football Manager Classic che è importante il coso Classic perché è la prima volta che su console portati anzi in ambito portatile esce un Football Manager almeno così l'hanno descritto per sapere completo quindi presumo come su PC mentre di solito su PSP e mobile gli mancano dei pezzi già che stiamo recuperando ci chiedono su Twitter Giovanni Guagliardo ma ho capito male o hanno annunciato qualcosa a Borderlands 2 su PSVita si hanno annunciato ce l'ha richiesto adesso vabbè siamo a una trasmissione di servizio no questo è di 14 minuti allora dicevo quindi sì abbiamo elencato un po' le cose che ha detto da Microsoft quelle dette da Sony nella sua lunga conferenza secondo me è il punto di commentare adesso un po' diciamo come allora c'era sembrata dopo le tre in vantaggio abbastanza nettamente Sony per dopo le tre e prima della retromarcia di Microsoft in modo abbastanza netto soprattutto alla diciamo per la percezione di tutti i videogiocatori perché comunque era l'unica delle due console che non voleva rompere le guglie con sistemi innovativi che poi magari questo è un discorso più ampio si sarebbero potuti rivelare anche fighi in altri in altri aspetti per una questione del digitale fatto meglio per il family sharing che potevano proporre eccetera ok però alla percezione immediata dei giocatori Sony era quasi l'unica scelta possibile dopo le tre per 100 euro in meno in cambio di non avere una periferica come Kinect che poteva essere l'erede di PlayStation I la PlayStation Camera che vabbè poi non è quello però insomma senza obbligare il giocatore ad avere una periferica che può essere considerata facoltativa invece viene proposta come obbligatoria nessun obbligo sull'online nessun obbligo sui giochi usati sui prestiti agli amici dei giochi su disco eccetera e 100 euro in meno Microsoft aveva dalla sua alle tre già una line up forse un po' più nutrita di titoli un po' anche qualitativamente diciamo più appetibile però insomma Sony era in netto vantaggio tant'è che ci scherzava addirittura sulle cose che trollava un po' Microsoft addirittura con dei video fatti da loro su YouTube su come si shareano i giochi su PlayStation 4 semplicemente passandoseli di mano in mano e adesso che cosa succede invece Microsoft ha rinunciato a parte della sua visione digitale del futuro dell'intrattenimento tanta no beh nel senso il digital delivery ci saranno comunque ancora ha cambiato il grosso della sua visione si diciamo che l'ha fatto per eliminare quelle che sembravano rotture di guglie agli utenti e quindi da questo punto di vista si è messo alla fine i metodi di utilizzo di PlayStation 4 e Xbox One sono diventati identici adesso l'unica differenza che ancora rimane appesa tra le due sono i 100 euro di prezzo a svantaggio di Xbox One perché ha Kinect nella confezione e appunto proprio Kinect di cui peraltro oggi non si è minimamente parlato al di là del fatto che è stato annunciato cioè che sono state mostrate c'erano da provare Kinect non si è parlato dell'importanza di Kinect nella console per niente ma proprio per niente è quello che sto notando cioè che non si è parlato proprio per niente dell'importanza di Kinect hai presente tipo il 21 maggio di cosa si parlava di Kinect di come era importante ah no ok però secondo me alle 3 ci hanno fatto vedere cioè anche in privato delle cose con l'importanza di Kinect eccetera c'erano anche oggi delle demo di Kinect c'erano le stesse che abbiamo visto noi sì ma nell'ambito dei giochi da provare però cioè hanno parlato Phil Harrison hanno parlato Phil Spencer ma l'hanno detto che per loro Kinect è una cosa importante va bene va bene magari io l'ho percepita come secondo me dal 21 maggio ad oggi c'è stata una curva così in discesa sull'importanza di Kinect nelle parole di Microsoft fatto sta anche che comunque è diventata meno imprescindibile per il funzionamento della console prescindere da questo discorso era tipo che se non avevi Kinect non ti potevi muovere in casa e non potevi più bere e mangiare prescindere da questo discorso quello che si è visto oggi da Microsoft era tutt'altro cioè essendo uno showcase noi da Microsoft abbiamo avuto un altro impatto perché c'erano i giochi cioè si potevano toccare con mano ci hanno fatto una presentazione hanno fatto vedere cose nuove però ci hanno anche detto andate lì che ci sono i giochi giocate cioè la differenza è stata questa qui infatti il discorso che facevo io all'uscita da Microsoft è quali giochi ho voglia di giocare adesso a casa voglio giocare Rise voglio giocare Dead Rising 3 nonostante ci abbia qualche problemuccio qualche problemuccio ce l'ha però è abbastanza da marro per me voglio giocare addirittura Kinect Sport Rivals a me ha fatto una bellissima impressione comunque tecnicamente era fatto molto bene il sistema di riconoscimento facciale è impressionante funziona proprio bene riesce a creare dei personaggi poligonali comunque cartunosi basati sulle facce delle persone bellissime cioè voglio dire a me mi ha messi i capelli però si possono poi togliere dopo e secondo me la percezione diversa era proprio questa qui perché comunque hai nuovamente provato con mano dei giochi che alla fine sono validi cioè sono dei titoli d'uscita simpatici giocosi che comunque stanno lì e li puoi toccare invece con Sony abbiamo avuto vomitato in faccia 300 cose di quelle 300 cose se ne sono viste di meno a livello di gameplay e quindi secondo me stiamo parlando di due cose totalmente differenti però si vedranno comunque alla Gamescom e quindi siamo in attesa per rispondere un po' a Wallone sul fatto di Kinect secondo me lui ha ragione con la sua sensazione anche se secondo me vale poco detta oggi dopo questo evento perché appunto non era una conferenza in cui tornare a toccare i pilastri della filosofia di Xbox One che peraltro non sappiamo più quali sono perché sono stati cambiati quindi si deduce sì ma si deduce più che altro da quello che è successo dopo le 3 più che dall'evento di oggi perché non me lo aspetto come quello che invece è stato di Sony quello in cui ti ricapitoliamo un po' la situazione magari ti facciano vedere qualcos'altro di nuovo o elettronica o elettronica la domanda che tu hai fatto prima però era mi pare all'inizio cerchiamo un po' adesso di tirare un attimo le fila e che cosa ne pensiamo dopo aver assistito a queste due mezze una presentazione e una no per me oggi non è cambiato praticamente niente anche perché di significativo rispetto a quanto mostrato alle 3 e poi nel periodo immediatamente successivo non c'è stato praticamente nulla mi sarei aspettato qualcosa di un po' più non dico frizzante anche frizzante perché ci sono stati momenti di vaga noia da Sony però come ho detto a te direttamente anche ai due Marco qua a fianco prima dell'inizio dell'evento di Sony secondo me visto che Microsoft aveva in buona parte rinunciato a cercare di fare un grosso impatto sul pubblico perché era un evento più piccolo e non era in streaming cioè si stava riferendo solo ai presenti tra l'altro secondo me ti interrompo solo un secondo per dire che avrebbero potuto comunque streamare sì ma anche secondo me si è vista roba ben peggiore ci sono state degli E3 di Nintendo ma era una mezz'oretta di annunci veloci che non erano certo dei Megatom ma ci poteva stare e comunque dicevo appunto visto che Microsoft comunque ha fatto una cosa un po' più di basso tono mi sarei aspettato che Sony con gli S ulteriormente la palla al balzo visto che già è tuttora dall'E3 in una fase in cui sembra che gli vada un po' tutto bene che tutti i messaggi che butta fuori vengono recepiti bene insomma sfruttasse ulteriormente l'occasione per lanciare qualche altra bordata invece c'è stato anche tanto c'è stato tante cose dette da Sony però un po' un po' un po' troppo tranquilla un po' troppo compostina e tutto sommato o ha scelto male il modo e i pesi e le misure e i tempi da dare alcuni progetti piuttosto che altri perché sembravano un po' tutti allineati tranne appunto come dicevamo prima per esempio Assassin's Creed 4 che va bene tutto il problema è questo loro avranno fatto chissà quegli accordi con Ubisoft perché gli porta il personaggio che come diceva Marco prima di questa della diretta Aveline della versione per PS Vita di Assassin's Creed che più o meno ce la siamo giocati in 5 si no loro dicevano il ritorno di Aveline la spacciavano come tipo ah figata è tornata Aveline Aveline non è un personaggio che è particolarmente Assassin's Creed l'abbiamo visto 400 volte forse se non ricordo male hanno cercato di mettere una pezza alla presentazione delle 3 di Sony perché era Assassin's Creed 4 che si era bloccato malamente comunque per me non è cambiato praticamente niente perché non vedo alcun annuncio che possa spostare prima di rispondere per te però per Mattia non è cambiato perché per te diciamo la questione DRM eccetera di Microsoft non ti era di alcun fastidio quindi per questo perché comunque altrimenti dalle 3 tra ieri e oggi tra ieri e oggi no 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 quello che è successo oggi non è cambiato niente ok tutto quello che è successo prima cioè dopo le 3 oggi ha cambiato qualcosa si bene abbiamo già parlato in un hangout quindi non ci tornereai adesso io preferivo la filosofia di Xbox One precedente all'incidente del treno alla retromarcia totale all'esplosione nucleare prima di rispondere su questa cosa devo rispondere voglio rispondere a Fireats che chiede che tipo di gioco no non vuoi rispondere perché non puoi vuoi ma non puoi vabbè mi hanno fatto capire che tipo di gioco è Everybody's Gone to the Rapture hanno detto che essendo dei creatori di The Rester si punta ad essere un'esperienza particolarmente coinvolgente emotiva eccetera te lo posso dire di 70 giochi visti oggi no ok ma mi aspetto tra virgolette un non game una roba un po' alla giornata se posso dirlo però è un nome bellissimo finalmente ogni tanto vengono fuori dei giochi con dei bei nomi visto che è veramente raro e quindi vabbè sarà un tipo FIFA un gioco di quel genere là sarà tipo un sonnifero una cosa bella il nostro Gianmetti come ha già fatto capire prima se non ricordo male ha qualcosa ha dei conti in sospeso con i sviluppatori di The Rester c'è Anya's Room giusto? no allora secondo me il level designer di The Rester cioè il level designer di The Rester è un tizio fantastico cioè ha lavorato pure a Mirror's Edge ha fatto un sacco di cose The Rester non mi ha colpito l'ambientazione di questo mi piaceva decisamente di più rispetto a una spiaggia il vento e i gabbiani allora se posso raccontare io con i gabbiani ho un brutto rapporto quindi per me ok quando è partita la presentazione di Everybody's Gone to the Rapture giusto? Everybody's Golf to the Rapture esatto il Gianmetti era abbastanza intrigato finché non ha capito ah ma è quello è partito tipo un esatto rispondo alla alla domanda di Walo anche per quanto mi riguarda non è che sia cambiato poi chissà che in realtà con il più classico degli what if tipo sliding doors in una realtà alternativa mi sarebbe piaciuto vedere un annuncio di Microsoft all'Xbox reveal di quando era maggio con la filosofia direttamente di adesso senza i cambiamenti senza le cose come dire quello che la console è oggi versus quello che è sempre stata PlayStation 4 secondo me le cose sarebbero state diverse nel senso che la percezione sarebbe stata diversa i 100 euro avrebbero comunque pesato sicuramente però uno scenario diverso secondo me c'era dopo l'ormai celebre retromarcia ci sarebbe stata un'impennata magari delle prenotazioni anche per Xbox One che noi adesso non abbiamo sotto mano i dati di tutto il mondo delle prenotazioni però il consenso più o meno generale nell'universo è che non si è cambiato quasi niente no infatti è molto interessante questo fatto è uno dei due scenari che anche a me piacerebbe vedere l'altro è Hitler che l'altro è Microsoft che rimane invece sulla sua filosofia DRM la console che senza Kinect costa 3,49 questo è l'altro questo è l'altro scenario cioè Microsoft dall'inizio e senza mai cambiare idea propone la sua visione del digitale eccetera così però la console costa 3,49 ma come fa a costare 3,49 con Kinect senza Kinect ma perché lo tolgono che è sempre stato importante no questo è lo scenario è come tu dici così presentano la cosa non cambiano mai idea sui DRM sul digitale presentano un Xbox Live molto Kinect facoltativo tra l'altro acquistabile comunque anche sempre comunque sviluppato come un erede molto più figo del precedente però a parte la console 3,49 questo sarebbe stato altrettanto interessante del fatto 4,99 però da subito senza DRM una cosa carina che è successa oggi è che praticamente alla prova di Kinect Sport Rivals praticamente non si usava il Kinect per navigare per navigare i menu usavano comunque il pad perché comunque era bloccato soltanto per la creazione del personaggio per il resto e poi quando partivano i giochi per il resto a parte c'era un detect pessimo perché c'erano le luci messe malissime però c'era un ragazzo di colore che praticamente il Kinect non l'ha visto di nuovo siamo tornati ma comunque perché è carina questa cosa io quando me ne sono accorto ho detto perché devo navigare tra i no è carina perché per quello che diceva Wallone quindi vuol dire che magari a parte che un gioco come Kinect Sport Rivals con quella grafica e con determinate idee tipo c'era un clone di Web Race ma mille volte con il pad che rispetto era bello però in effetti la fase della creazione del personaggio c'era il solito prima c'era tutta la scansione della faccia ne avete parlato poco fa magari e me lo sono perso però dopo come al solito scegli la tipologia di capelli per il tuo avatar c'erano due miliardi di tipologie di capelli solo i capelli e comunque la barba che è come al solito una noia mortale quelle cose secondo me più per evitare di andare in qualche diciamo menu del gioco che ancora non era finito che era comunque una versione non completa il gioco uscirà molto più in là ci sai dire anche quando più o meno esce inizio 2014 tipo marzo primavera una roba del genere tra l'altro comunque lo proveremo insieme ad altre cose che dire c'è un commento dice sono il solo a cui la conferenza Sony è piaciuta non per la regia o il ritmo ma per i titoli presentati ma c'è un problema che quando il ritmo per noi almeno noi abbiamo visto più o meno tutto nello stesso modo è un po' è un po' lento non riesci neanche tanto a goderti dei tanti piccoli annunci che hanno fatto perché in effetti comunque di roba ce n'era tanta quindi poi magari ma tra l'altro comunque abbiamo detto che non è che non ci è piaciuta in senso assoluto o che non apprezziamo le cose che hanno mostrato semplicemente forse sono mancate cose tra le rette in esclusiva e la presentazione non è stata al massimo io l'unica cosa che non ho apprezzato e continuo in realtà a non apprezzare non è una novità è il modo in cui trattano PlayStation Vita poi tutto lì nel senso va bene vogliamo anche spendere un 5 minuti sulla conferenza di Electronic Arts che si è tenuta un paio d'ore prima anzi tre ore prima di quella di quella Sony che in realtà vogliamo sì vogliamo vogliamo perché ognuno di noi dica che cosa comprerebbe oggi tra le due abbiamo ancora allora io oggi oltretutto ci ricolleghiamo direttamente alla conferenza di Electronic Arts perché io a metà della conferenza di Electronic Arts mentre stavano facendo vedere Titanfall sentite la logica la logica stringente il nuovo Beautiful Mind Dave sentitela è proprio bello Titanfall cosa che già pensavo direttamente all'E3 mi sono avvicinato a Wall-E1 e ho detto compro la Playstation 4 senza avermi non è ironia spiega che non è ironia non era ironia senza aver capito minimamente perché abbia detto questa cosa però purtroppo ormai l'ho detto oltretutto Wall-E1 sa che l'ho detta con una serietà rara sa che quando lo dico in questo modo vuol dire che è vero quindi mi sa che compro Playstation 4 non so esattamente spiegarti come mai tu Marco io compro tutte e due no devi scegliere devi dire anch'io ma devi dire lo dirò anch'io quale delle due comprereste se ne potessi comprare quella che esce prima tanto ne compro tutte e due no devi scegliere devi dire chi è meglio adesso io adesso mi baso solamente sui giochi e se devo fermarmi alle console io comprerò Xbox One per i giochi per i giochi no ma ti dico anche per quali giochi per Titanfall si si ma è un un validissimo motivo secondo me proprio anche Titanfall mi ispirano tanto i titoli indie di Sony sembra un paradosso rispetto alle cose che ho detto prima però in realtà mi ispira di più Titanfall e tra l'altro tra i giochi se mi devo fermare di Sony il gioco che mi ispira di più a maggior ragione dopo il trailer di oggi continuo a essere Infamous Second Son che tra l'altro andrò a vedere mi pare domani o dopo quindi ne parliamo non è detto che sia giocabile ne parliamo comunque dicevo se devo poi basarmi a quella che sarà la data di lancio e tra l'altro lancio pure l'argomento dopo io dico che Xbox One al lancio si presenta secondo me con i giochi che puoi comprare all'inizio proprio quando esci dal negozio con la console si presenta per il mio gusto in maniera un pochino più appetibile ok 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 è una scelta quindi siamo a una PS qua è vero devo bilanciare una cosa che ho saputo ho scritto un articolo positivo su Rise che sembra una vergogna nel senso perché me l'hanno presentato ed è meglio di come sembrava ho anche provato oggi il multiplayer confermo che è comunque un titolo molto meno peggio di quello che si credesse anzi sembra avere delle cose interessanti il multiplayer è carino ma perché mancava il mano giustamente chiedo a uno dei ragazzi di Krite che tra l'altro sono degli amori gentilissimi simpaticissimi dico ma quanto durerà la campagna aspettandomi la classica risposta in politichese e non te lo posso dire di qua di là più o meno quanto un Call of Duty e io lo guardo e dico Call of Duty pensavo dicesse God of War e se fosse sbagliato lui fa sì Call of Duty quindi la risposta che ovviamente non era la risposta che volevo Call of Duty si sa non è famoso per le campagne particolarmente lunghe l'ultimo è lungo mi dice il Giopa ai Bivi è vero che questo avrà anche questa struttura multiplayer parlo di Rise con la possibilità tra l'altro di crearsi delle sfide multiplayer è solo co-op per due tipo Orda diciamo con dei set modulari di arene che si muovono si smontano armi particolari che escono fuori eccetera la possibilità di creare proprio delle regole tra l'altro sul creare delle regole dico una cosa che mi è piaciuta tanto di Killzone Shadow Fall che non mi aveva mai colpito particolarmente se non per il fatto che è un po' più colorato figo molto figo il trailer del multiplayer che hanno fatto vedere la possibilità di customizzare in maniera sostanzialmente totale il multiplayer di crearsi delle regole crearsi delle playlist che sono sia ufficiali che come dire della singola persona e vanno magari a creare dei precedenti anche online giù il cappello è una bella idea secondo me ed è una cosa apprezzabile e tra virgolette è next gen ringraziamo Valve ringraziamo Valve dice Timo una roba anche Blur anche Blur faccio io stavolta la domanda no deve rispondere ma è vero però la butto già lì secondo voi così rispondono tutti e due Microsoft e poi esco e do la parola dallo spazio a Joppe anche secondo voi Microsoft ha fatto apposta a non dire la data la data di lancio per aspettare quella di Sony questo posso rispondere io perché Mottura l'altro giorno ha scommesso 10 euro con un tizio di Microsoft sull'uscita e gli ha e gli ha detto che praticamente una data di uscita sbagliata e quindi adesso praticamente alla Microsoft non sanno più quando far uscire la console chi è meglio oggi tra PS4 e Xbox One allora la migliore è la console su cui esce Shadow of the Beast quindi mi sa che è PS4 mi dispiace ma è questo il tuo motivo non ci posso fare niente lo accendiamo il remake del peggior gioco mai creato sulla faccia della terra quindi io devo per forza averlo reimmaginato 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 no no parlando seriamente penso che sia una scelta molto difficile perché i titoli Microsoft come ho detto prima alla mano sono molto belli mi piacciono un sacco e soprattutto c'è Dead Rising che per me è proprio la punta di diamante che però poi parliamo anche di come era oggi Dead Rising rispetto a come era stato presentato all'inizio era molto ma molto più simile agli altri cioè molto più stupido nel senso che a un certo punto per dire prendi un un rullo compressore lo porti vicino a una motocicletta premi un pulsante si vede lui che fa due secondi di animazione con la fiamma ossidrica e diventa un enorme bestione che sputa fuoco e che rulli mostri fino all'inverosimile cioè una cosa fantastica ma tecnicamente pure? tecnicamente aveva delle belle luci un framerate che non andava molto bene che non andava per niente bene ma sarà sistemabile quel livello di non possono venderlo così no diciamo che secondo me potrebbero anche fare l'effetto Apple cioè dire è una feature di tutti quanti Dead Rising che ci sono gli scatti ti dico io come lo sistemano facendo uscire il gioco minimo 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 nel 2014 e no no dovrebbe essere d'uscita no non è al lancio cioè è un po' dopo no non è più al lancio è stato spostato è il 2013 no meglio per carità è stato annunciato da subito come fine 2013 a prescindere dall'uscita della console un gioco del genere comunque era molto se al lancio io te lo dico allora è impossibile che lo sistemi adesso controlliamo secondo me comunque rimane la mia previsione che Dead Rising non esce nel 2013 stavo dicendo stavo dicendo un'altra cosa però no dicevo quindi visto che ci sono questi titoli comunque su Xbox One che mi interessano però c'è tutta quanta la parte indipendente realmente esclusiva per Playstation 3 che mi interessa parecchio non parlo dei giochi che usciranno anche per Steam sono fortemente tentato da prendere una PS4 anche perché Titanfall fortunatamente non lo posso giocare su PC quindi almeno per quello sto al posto si spera che si spera che Dead Rising è tentato da prendere PS4 cioè i giochi per i giochi indie però non quelli che hanno mostrato nel senso tipo Hotline Miami uscirà per Steam o per PC in generale per la filosofia che stanno dimostrando no semplicemente proprio per i titoli indie che hanno mostrato e per le esclusive che hanno mostrato oggi soprattutto ripeto sembrerà una stupidaggine però Shadow of the Beast oppure Rime lo stesso gioco dei creatori di The Rester Rapture eccetera eccetera a me interessano molto se davvero rimangono solo su PS4 e calcolando come sono le esclusive PSN rimangono su PS4 io sono obbligato a prendere una PS4 perché sono proprio giochi che a me piacciono da morire cioè io ci campo su quei giochi va bene parliamo un attimo dei giochi che abbiamo visto magari in Microsoft abbiamo detto di Dead Rising 3 che abbiamo parlato di Kinexport Rivals scusate chiudo perché oggi è uscito l'elenco dei giochi di lancio di Xbox One Dead Rising 3 c'è anche Dead Rising 3 va bene quindi Dead Rising 3 è un gioco di se esce no cioè allora o ci hanno mostrato una cosa che è tipo di tre mesi fa ma anche sono molto ottimista può essere speriamo l'ha giocato Wallone oggi però l'area di gioco è la stessa di quella mostrata hands off diciamo alle tre quindi è possibile anche che abbiano preso quella demo e te l'hanno messa in mano questa volta rispetto a come era stata mostrata alle tre era molto più avanzata cioè ci stavano decisamente più opzioni c'erano molti più c'era la possibilità anche di assoldare i vari sopravvissuti per fare altri mob era avanzata cioè non sarà sicuramente quella definitiva perché poi si sa era anche soprattutto più orientata sulla modalità cioè sullo spirito sandbox del gioco più che sul fatto trama quello che sulle missioni comunque nel senso era lì era una demo che serviva a far vedere che cosa si poteva fare in generale mettere insieme le armi perché si possono combinare più armi e anche più veicoli o più oggetti a formare dei veicoli però quello che dicevo pure prima è proprio essendo una demo magari è soltanto un ambiente di prova di test e quindi il gioco sarà molto diverso potrebbe anche essere questo sì il frame rate che aveva era c'è da dire che comunque lo rendeva brutto dai lo stesso molto figo molto ispirato però almeno per chi piace per chi gradisce il fatto Dead Rising no ma Dead Rising un attimo che magari non hanno avuto modo di vedere visto che non c'è stato il frame rate non è che era della serie va a 30 e ogni tanto scatta il frame rate era che va a 20 e ogni tanto va a 5 cioè era una cosa di questo genere qua quindi un frame rate veramente molto problematico e per quello che pensavo fosse più là vabbè la speranza è che in questi mesi facciano l'impossibile per la speranza è l'ultima a morire soprattutto nel caso di un gioco di zombie mi suggerisce Jopep però Marco aveva detto parliamo un po' di qualche gioco visto di Xbox One per esempio sì no no andiamo avanti con un altro intendo per esempio Killer Instinct che abbiamo giocato proprio io e Medicare e anche Wallone parliamone parliamone Killer Instinct è un titolo che a me in realtà sta simpatico per motivi diciamo di cuore io da piccolino impazzivo per quello in sala giochi più che altro per il gusto la tamarragine e poi che aspettavo l'Intendo 64 come il signore e quindi quella era la tecnologia che in realtà doveva basarsi sull'Intendo 64 questo ritorno criticato acclamato dalla community vabbè è particolare Double Elix l'abbiamo detto è venuto l'anima al diavolo ma secondo me sta facendo un lavoro ottimo oltretutto come ci hanno scritto su Twitter è Double Elix che sta facendo Shadow of the Beast a questo punto è vero è una cosa bella sì è bello il commento diciamo che il titolo si è presentato già in forma alle tre questa era una demo una build nuova con due personaggi in più con il Shift Thunder mostrato pochi giorni fa Glacius mostrato in occasione dell'Ivo l'abbiamo giocato non l'abbiamo giocato nessuno è particolarmente esperto di picchiature quindi l'abbiamo giocato Wallone io ti segnalo che adesso è medicappa che comunque adora Killer Instinct visto che ho perso dico la realtà ho fatto una partita in sala giochi nel 94 ma io non ero bravo comunque diciamo che si presentava bene avevamo l'impressione che purtroppo ho perso però ho perso il sistema di controllo un po' così dei problemi esatto faccio l'interista anche segnalare che alla fine della partita mi sono girato verso lui per dire vabbè ma che è scusa mi rompi le palle da mesi e ti fai battere da me che sono una sega e ha detto oh ma comunque non si sapevano le mosse cioè prima di commentare abbiamo schiacciato così abbiamo usato la tecnica del busumo comunque dai il gioco si presentava bene soprattutto te che ne parli sempre male io parlo male e ci vedi siccome ha vinto lui vedi anche lui interista siccome ha vinto era bello fantastico no non avevo avuto modo di giocarlo alle tre purtroppo e non mi aveva fatto una grandissima impressione ma neanche una pezzi impressione stilisticamente io avevo le mie riserve più e ho ancora abbastanza le mie riserve più significative sul gioco comunque il feeling è molto buono ha una pesantezza un modo di proporsi che in effetti è molto vicino sicuramente tra l'altro è diverso da tutti gli altri cioè non cerca di copiare Street Fighter questo sicuro no è molto vicino invece proprio in effetti l'originale al tono che va all'originale ha una certa tipologia di picchiadure incontri degli anni 90 molto fracassoni quando ne uscivano 200 al mese alcuni di SNK che adesso non mi vengono in mente perché non mi faceva in mente un po' War Heroes potrebbe essere bravo Timo che tu i giochi brutti te li ricordi tutti e quindi sì per me è promosso questo momento il gioco per Wallone non lo so no tra l'altro diciamo anche un'altra roba sono uscite oggi le notizie forse non sarete viste riguardo a come verrà venduto Killer Instinct verrà venduto gratis allora la demo che in realtà non è proprio una demo perché c'è solo un personaggio Diego lo puoi finire con tutto il gioco con lui è gratis ogni personaggio in più eventualmente costa 4,99 euro venderanno sì costa 4,99 euro venderanno tutto il gioco a 19,99 aspetta tutto il gioco vuol dire 8 personaggi di cui 6 al lancio e 2 aggiunti dopo per chi fosse particolarmente fan c'è l'Ultra Edition Pack tutto questo per creare semplicità esatto c'è l'Ultra Edition Pack che costa 39 euro full price hai tutti i DLC no no dico per lui esatto è il massimo che puoi spendere per Killer Instinct spendi 39 euro hai quegli 8 personaggi cosa in più che usciranno e attenzione il remake di Killer Instinct 1 che comunque sì dentro sì pare allora io avendo giocato al gioco posso dire che è un modello di vendita scusa è un modello di vendita sicuramente particolare è free to play non è free to play sì è free to play di questo qua i personaggi è free to play con il prezzo per il pacchetto totale secondo me è un MOBA esatto è un MOBA è un MOBA io dopo averlo provato posso dire che ci sta giusto perché è free to play cioè nel senso non è un gioco non è free to play guarda non è free to play puoi giocare con un solo personaggio gratis tutto questo è free to play cioè la prima cosa che fai è anche scaricarlo no non è vero eh sì cosa fai tu lo fai ti paghi tutto vediamo vediamo lo scarichi un personaggio solo a schermo che cammina avanti e indietro vediamo allora se non c'è il pulsante per comprarlo direttamente in una delle due edizioni è free to play quello fa la scusa certo che c'è però è anche free to play allora killer instinct è anche free to play perché puoi scaricare uno e puoi comprare altre cose qui è fino ad arrivare ad avere tutto giusto quindi c'è la versione free to play quindi killer instinct è anche free to play è almeno anche free to play che c'è c'è un bel commento poter giocare a tutto quello che offre il gioco volendo senza spendere un soldo è vero è vero no free to play è free to play e poi ci sono le cose che devi comprare ma questo è quello c'hai un personaggio il gioco è quello sì ma che ne sai ma basta allora il gioco è con un personaggio e lo giochi tutto sei pocotizzato poi puoi pagare per avere altri personaggi free to play free to play è free to play è free to play ci sono parecchi giochi free to play in cui diversi contenuti o paghi o te li suoi posso dire che League of Legends per dire il più famoso gioco del mondo non solo il free to play adesso è LOL League of Legends è così cioè c'hai alcuni personaggi con cui puoi fare tutto quello che si fa nel gioco se vuoi ne compri tanti altri ma tanti altri cioè centinaia di altri posso dire quindi è esattamente quel modello là comunque quello che volevo dire al di là di tutto è che secondo me Killer Instinct non è allora a me non piaceva neanche il gioco originale secondo me era il picchiaduro un po' dei poveri dai diciamo cioè nel senso era la roba per chi non voleva giocare a Street Fighter o poi dopo anche in quel periodo comunque anche a Virtua Fighter e Tekken quindi cioè secondo me era un po' il picchiaduro dei poveri la dico qui vedo che questa cosa genera una leggera polemica su questo divano sul casting couch io sono d'accordo dai era il picchiaduro dei poveri dai chi se ne frega di sto Killer Instinct poi la gente a cui piaceva Killer Instinct non ci sa neanche giocare e l'ha dimostrato oggi un altro mi fate dire un commento che hanno fatto che è simpatico che avete un po' rotto la mica Killer Instinct lo vengono a puntate dal giornalaio e costruisci il tuo Killer Instinct ogni settimana nel primo pezzo la gamba di Ken esattamente che è comunque una cosa una cosa simpatica è così vorrei anche dire una roba la butto là così in realtà è un mezzo megaton ma alla fine poi queste console next gen che aspettavamo tanto è sì noi le compriamo le vogliamo sì però non è che c'è proprio un gioco che allancio il prossimo novembre uno se non gioco quello muoio no ecco no no non c'è no quel tipo e non è che è il massimo come condizione vabbè però io non mi ricordo vediamo un po' Super Mario 64 per Nintendo 64 e forse basta cioè non c'è forse nessun altro lancio che io ricordi con devo avere quel gioco istantaneamente no è sempre stato voglio The Driesing 1 è uscito quasi un anno dopo il lancio di 360 infatti io l'ho comprato un anno dopo eh no appunto cioè quindi non per dire cioè è stato è più raro il caso in cui c'è però in questo però in questo caso c'è su PS4 ci stanno comunque dei titoli grossi per dire cioè per il pubblico hardcore PS4 un Killzone Killzone sì certo per quanto per quanto sia diciamo non proprio amato da tutti però è è un hit grosso cioè anche a livello tecnologico per carità certo è molto pesante anche quello che tu vorresti giocare cioè io Killzone perché cioè no Killzone me lo gioco però per me è in seconda Titanfall cioè quello lì è il gioco che io voglio quello è Piante contro Titanfall ce lo giochiamo quando? Marzo tipo? no in realtà domani no che mi devono schiodare col muletto completo non la versione free to play dei Titanfall però il problema è che questo è il primo titolo magari next gen che tu nomini però esce anche per pc cioè è una cosa stranissima se ci pensi perché Mario 64 morivi se non prendevi il Nintendo 64 non ci gioca no vabbè no per carità di dio però Mario 64 emulatori a parte lo potevi giocare solo lì cioè quel discorso ritorna sempre alla fine è l'unico gioco Mario 64 di sta roba del gioco di lancio che ti fa comprare la console Ridge Racer ma io per questo parlavo di Dead Racer su playstation 1 tecnicamente è una cosa io volevo comprare la console quando l'ho vista la volevo comprare giapponese a 12 milioni io per wonder project j2 non lo so non a quel livello sì sì no vabbè sì in effetti sì in effetti sì vabbè ma perché per playstation 1 forse qualunque cosa The Bouncer quindi non volevi comprare la play 2 ma The Bouncer non era lancio io saluto e do la parola a poco tanto c'è c'è un momento di c'è un cambio stanno succedendo delle cose ma dove andrà perché scappate arriva uno che puzza e quindi che c'è vieni Pocoto vieni Pocoto vieni Pocoto ci devi dire delle cose dove vai vieni qua vieni qua tanto siamo finendo la nostra diretta ancora un 5 minuti ci porti delle notizie Pocoto no vi porto siccome stava parlando stava parlando di anzianità ci si potrebbe entrare dentro l'argomento i lanci delle considerazioni per quanto riguarda il free to play di cui si parlava precedentemente l'unico vero free to play è Dota 2 perché si può giocare tranquillamente tutto senza spendere il becco di un quattrino ma perché League of Legends hanno appena detto che non è questo però mi hanno fatto una testa così perché il concetto di free to play non è questo quindi occhio a cosa dici perché poi arriva della gente ma guardate free to play è un tema che all'interno della GDC se ne è parlato moltissimo è sulla buca di tutti fondamentalmente la questione è trovare il giusto bilanciamento fra le microtransazioni la suddetta invasività delle stesse e il bilanciamento del gameplay perché alla fine è una maniera piuttosto come posso dire cheap diciamo di fare facili guadagni dando fastidio all'utente è preferibile spendere una spensa iniziale e godere del gioco in tutte le sue ma scusa ma se alla fine invece intanto tu lo provi e ti diverti pure cioè tipo League of Legends che tu dici non è free to play come Dota 2 c'è gente che ci gioca una vita senza spendere un soldo perché non è quello funziona ho capito però allo stesso tempo decine di milioni di persone che giocano ogni giorno beh ma per te ne dite anche io gioco tranquillamente a Team Fortress 2 ma Team Fortress 2 ha la limitazione degli slot delle harby e dopo un po' ti pesa ho capito ma spendi magari comunque di meno di eh appunto spendi comunque di meno cioè metti che spendi ogni tanto 99 centesimi per aumentare lo slot delle armi e alla lunga in tipo 4-5 mesi che ci hai giocato e ti sei divertito avrai speso 10 euro è comunque meglio di 60 subito e poi chissà se ti piace pure cioè nel senso dipende però non è necessariamente peggio secondo me io ritengo semplicemente che Dota 2 sia il modello da cercare in cui attraverso l'esborso pecuniario si coprono delle semplici personalizzazioni o comunque la voce dell'enunciatore o quant'altro niente di più niente di meno mentre noi parliamo succedono delle cose molto pericolose c'è un bullying umano c'è un bullying umano fatto con una palla qual è il tuo lancio preferito di tutti i tempi poco uno split 47 morto che parla no il tuo lancio la console il gioco accoppiata gioco console migliore di tutti i tempi al lancio al lancio domanda domanda particolarmente complessa beh in tempi recenti indubbiamente il nintendo 64 direi che in tempi recenti il nintendo 64 chiudere e salutare perché è assolutamente finito il tempo a disposizione ci scrive Antonio spagnuolo Wii Sport grande gioco di lancio lì mette anche una faccia a rire però in effetti è un grande gioco di lancio sì diamogli ragione perché in effetti ha dimostrato avergli dato ragione chiudiamo perché il regista si sta impiccando andiamo va bene vi salutiamo così e troverete la registrazione fra qualche ora per chi se la fosse aperta troverete la differita domani mattina free to caraibi ciao ciao a tutti ciao buona serata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti